Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono TheDavidTV e siamo tornati in questo nuovo video e ragazzi oggi volevo dirvi una cosa una cosa che non ha senso, cioè io stavo seguendo un video di Favij cose che non mi dispiace per tutto quello che ho detto a Pietro e ad un certo punto mi arriva questo ragazzo qua che dice che inizia a insultare Pietro, tutto di qua, tutto di là e io inizio a scherzare dicendo ma cosa stai dicendo e poi inizio a dire Pietro la Befana ecco va bene la seconda volta dico ancora va bene, sta scherzando così no e poi ha detto ma la Befana è un culo e allora io gli dico ma che problemi hai ma ragazzi secondo voi potete dire fate finta, state guardando un video di Favij e ad un certo punto vi arriva un messaggio e ad un certo punto vi arriva un messaggio su su nei commenti e vi dice ma la Befana è un culo ma perché? ma che problemi ha? cioè e poi gli dico e poi lo ho scritto lì sotto ma che problemi hai? perché devi scrivere una cosa del genere? adesso sospettano la sua cosa la sua risposta per vedere che cosa sta dicendo adesso sono proprio curioso guarda faccio proprio un video non mi ricordo niente cioè veramente ragazzi non mi ricordo veramente niente bene ragazzi allora il video finisce qua è stato un po' corso tanto per dirvelo dopo ne farò un altro perché sicuramente mi risponderà quindi appena esce faccio vedere appena mi dice qualcosa ve lo dico subito faccio subito un video dicendo che cosa mi ha detto bene ragazzi il video finisce qua e ci vediamo al prossimo video ciao